Abbiamo incontrato due campioni di questo genere, sempre più amato, tra i giovanissimi. Achille Lauro e Boss Doms. Musicisti. Achille Lauro e Boss Doms. Tecnicamente un rapper e il suo produttore. In realtà un sodalizio artistico che punta molto più in alto. Basta guardare ai loro artisti di riferimento. Califano, Mina, Pink Floyd, Zeppelin e Nirvana, Plasibo, ACDC, Marilyn Manson, voglia. Insieme hanno portato in Italia la trap quando ancora nessuno sapeva cosa fosse. Diciamo che sono tutti figli nostri, questa onda da trap è tutta figlia nostra, nonostante siano migliaia coetanei. E alla trap, la sua evoluzione. Abbiamo incontrato due campioni di questo genere, sempre più amato, tra i giovanissimi.